Il sindaco Giorgio Orsoni aveva invitato alla fiducia, tornando rinfrancato dall'ultimo viaggio a Roma. Il colloquio con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, gli aveva dato l'anticipazione di quanto poi effettivamente accaduto. Il decreto Salva Venezia è stato approvato. La città lagunare è stata dunque agganciata ancora una volta ai provvedimenti a sostegno della capitale con il decreto legge Salva Roma Terra, ma in un modo più diretto e dettagliato, come aveva richiesto il Presidente del Senato Pietro Grasso, quando due settimane fa bocciò un primo provvedimento. scatenando il panico fra circa 3.000 dipendenti comunali e le virate proteste dell'amministrazione veneziana. Anche il vice-sindaco Sandro Simeonato aveva nei giorni successivi ripreso il filo della trattativa, che ha portato ad un provvedimento meno dettato dalla fretta e più improntato sulla precisione di richieste. Anche se in effetti non è un regalo che lo Stato fa a Venezia, negli ultimi anni è sottoposto a continui tagli di trasferimenti statali e di fondi della legge speciale. Andavano tutelati i lavoratori. Con questo decreto ai comunali non verranno ridotti gli stipendi, si parlava di trattenute fra i 200 e i 500 euro. E saranno confermate le assunzioni a tempo determinato per asili e scuole materne. Attenzione però perché manca ancora il voto del Parlamento, ma il momento più difficile sembra essere alle spalle. Grazie. Grazie. Grazie.